Pino Ruta, la cosa più importante da fare nei primi 100 giorni da sindaco di Campobasso? Rimettere a posto la nettezza urbana e quindi un problema di gestione fattibile, fare dei bandi cornice per gli accordi pubblico-privati, per varianti ad iniziativa anche privata nelle contrade, per sistemare e regolarizzare le contrade e terza cosa, proporre e promuovere un asse tra cattolica, cardarelli e università per creare un polo d'eccellenza dal punto di vista sanitario. Solo tre cose, Pino Ruta? Beh no, per realizzare le prime tre ce ne vuole una quarta, scegliete un sindaco e non un partito. Aldo De Benedittis, qual è la cosa più importante da fare nei primi 100 giorni da sindaco? Beh, di cose importanti ce ne sono tante purtroppo a Campobasso, perché questi ultimi dieci anni sono stati amministrati nel disinteresse totale. Le prime cose da fare chiaramente sono i rifiuti, perché come è strutturata l'accolta rifiuti non è sicuramente console ai cittadini di Campobasso, ci sono quei mastelli che volano per aree, animali che si avvicinano, cinghiali, ratti, eccetera, eccetera. Qui dobbiamo trovare un altro sistema di raccolta differenziale. Poi chiaramente il traffico del centro, dobbiamo risolvere i parcheggi, perché noi abbiamo una serie problematica riguardo ai parcheggi. Al centro siamo bloccati completamente, oggi hanno rifatto le strisce pedonali, il traffico bloccato da via Principe di Piemonte fino al quartiere Cep, insomma. Queste sono cose a cui mettere in mano, vedremo insieme poi con gli altri colleghi che saranno eletti, con i candidati eletti, con chi farà l'assessore. Io ho intenzione di delegare tutto agli assessori, io manderò solo la programmazione e il controllo. Maria Luisa Forte, la cosa più importante da fare nei primi 100 giorni da sindaco? Allora, subito l'istituzione di un numero verde 0874 0874, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a cui tutti i cittadini di Campobasso possono chiamare per segnalare disfunzioni, malfunzionamenti, ma anche per problemi di carattere più importante, di carattere sociale, di carattere psicologico. E poi la piattaforma per tutti i giovani, giovani dentro e fuori, perché tutti i giovani possano amministrare insieme a noi. E poi interventi come quello per esempio per il centro storico di un microcredito, per far tornare studenti, artisti ad abitare nel centro storico e aprire anche nuove attività. e con il patrocinio oneroso del comune, organizzazione del sabato del borgo all'interno del centro storico.